la quarta coniugazione ha come vocale tematica la illunga che quindi rimane praticamente per tutto lo sviluppo della coniugazione stessa prendiamo un verbo trovare scoprire invenio invenis inveni inventum invenire questo è l'infectum il cui il tema del verbo si trae dalla seconda persona quindi invenis il perfectum il supino e l'infinito col tema dell'infectum vocale tematica illunga e re che abbiamo visto essere la desinenza dell'infinito attivo trovare essendo la i lunga rimane per tutta la coniugazione le desinenze sono quelle o s t mus tis inveniunt perché inveniunt e non invenint terza e quarta coniugazione sono comunicanti sono molto simili come struttura quindi mitunt mituntur c'è la voeofonica inveniunt inveniuntur la lingua va per analogie più che per differenze quindi invenio invenis invenit invenimus è la illunga invenitis inveniunt perché inveniunt non inveniunt perché vocalis ante davanti no vocalem brevis est quindi la i è lunga per natura perché è una i lunga la vocale tematica ma è breve posizione per cui inveniunt il passivo è sempre condizionato dal fatto che questa i è lunga quindi invenior perché invenior e non invenior perché di nuovo vocalis ante vocalem brevis est quindi invenior c'è una ridazione dell'accento però inveniris invenitur invenimur invenimini inveniuntur inveniuntur di nuovo torna l'analogia con la terza mitunt mituntur inveniunt inveniuntur le desinenze sono sempre quelle or ris tur mur minintur come tutti i verbi passivi che si rispettino alla seconda persona del presente indicativo dato che il latino è la lingua lettura la forma contratta inveniris invenire e la i qui ovviamente l'imperfetto segue sempre lo schema solito tema del infectum vocale tematica i e c'è la e per analogia con la terza inveniuntur e inveniuntur ritorniamo un attimo sulla terza mit tebam mit tebar invenibam e inveniuntur e per il passivo nulla cambia perché tema del presente più vocale tematica i lunga più e per analogia con la terza conogazione suffisso B-A-R-D-S-T-U-R-M-O-R-M-I-N-T-U-R un'ultima cosa sull'infinito invenire attivo trovare tema dell'infectum vocale tematica e lunga re desinenza trovare passivo la desinenza è ri come torniamo un attimo su come la prima e la seconda coniugazione lo riscrivo qui perché così è più chiaro parare parari preparare preparare essere preparato prepararsi tenere teneri la vocale tematica della seconda è lunga trattenere essere trattenuto trattenersi e per la terza attenzione perché abbiamo visto che è mittere tema del presente dell'infectum scusate più e breve più re inviare mitti e questo ha solo lei essere inviato o inviarsi per la quarta tema del presente più vocale lunga dell'infectum più vocale lunga più re trovare tema tema dell'infectum più vocale lunga più re come la prima e la seconda essere trovato oppure anche trovarsi così